Prima al Bonolis, prima vittoria, una vittoria che magari serviva soprattutto dal punto di vista del morale dopo due buone gare, ma anche dal punto di vista della classifica. Sì, soprattutto per il morale, come ha detto prima alla collega. È arrivata la prima vittoria, un po' sofferta, però ce la teniamo stretta. Dopo il 3-1 magari avete commesso l'errore di pensare che fosse già chiusa? Forse, abbiamo commesso diversi errori, soprattutto in alcune ripartenze, nella gestione della palla, dobbiamo migliorare molto. Siamo una squadra giovane, siamo solo all'inizio, possiamo migliorare, però secondo me siamo sulla buona strada. Bacio Terracino contro il Mestre, Foggia contro il Ravenna e Tulli, quando? Speriamo il primo possibile, ma l'importante è portare a casa punti, poi il resto viene da sé. Domenica ci sarà un'altra gara complicata, sullo stile di quella giocata a Vicenza, contro un'altra formazione che gioca per vincere il campionato, insomma. Sì, sappiamo che Pordenone è una delle squadre più attrezzate del campionato, ma come con il Vicenza abbiamo fatto la nostra partita, la faremo anche a Pordenone, senza paura, sapendo che dobbiamo migliorare in quelle cose dove siamo un po' mancati domenica. Voi sapete che siete costruiti per giocare soprattutto in velocità, ha stato detto che in fisicità ovviamente un po' perdete. Quanto manca ancora per raggiungere i livelli che vuole il tecnico? Secondo me manca poco, però non è facile, perché comunque siamo giovani, tanti non ci conosciamo, e piano piano dobbiamo affinare l'intesa con i reparti e soprattutto nella gestione delle partite, delle situazioni, perché sul 3-1, come avevi detto 3 prima, dovevamo chiuderla prima. La prima al Bonolis, com'è stata per te? È stata una bella sensazione, mi sembrava diversa gente, è bello quando comunque vieni dai, tutti insieme e poi si raggiunge il risultato, è una bella sensazione. Poi è un bello stadio.